Un blitz in piena regola, quello di sabato a Pesaro. Incassati dal Teramo tre punti pesantissimi che valgono l'uscita dalla zona che scotta. Una gara esemplare in cui la squadra ha mostrato la giusta maturità, figlia anche dei nuovi calciatori arrivati dal mercato. Un primo tempo molto incisivo, chiuso con l'1-2 di De Grazia, non a casa uno dei nuovi, e il colpo di biliardo di Bernardotto. Nella ripresa il diavolo ha saputo controllare abbastanza bene le sfuriate dei marchigiani, correndo qualche rischio senza tuttavia disunirsi come aveva fatto invece in altre occasioni. Un segnale importante considerando come era stato chiuso il girone, tre sconfitte consecutive, ben 11 reti incassate e zero segnate. Insomma una risposta efficace alle tante difficoltà avute, con la squadra che per usare le parole di mister Guidi è riuscita a resettare tutto giocando con autorità e personalità su un campo difficile. Ora la prova del 9 sarà la seconda trasferta consecutiva in programma domenica prossima in casa del Limolese, scontro diretto importante in chiave salvezza. Tornando a Pesaro, Guidi non ha avuto timore di lanciare dal primo minuto i neoacquisti Codromazze-Mordini nel reparto arretrato e De Grazia nel trio di centrocampo. Nella ripresa sono entrati anche Forgione e D'Andrea, come dire la squadra può contare su giocatori già pronti alla causa. Il mercato del Teramo tra l'altro non è ancora finito e qualche probabile ritocco, soprattutto in attacco, ci sarà. In uscita invece c'è un centrocampo da sfoltire.